Giornalismo e letteratura, ma anche satira, con spazio per approfondire e dialogare con il pubblico. Questi gli elementi del Festival Letterario Trame d'Estate, in programma dal 19 al 22 agosto, al Palazzo Mediceo di Serravezza, in provincia di Lucca. La manifestazione è stata presentata in Consiglio regionale. Per questa nuova edizione abbiamo deciso di puntare molto sulla qualità, invitando grandi autori e grandi giornalisti. Vi faccio alcuni nomi, Luca Bottura, Radio Capital, L'Espresso. Molta attenzione anche all'ambito della letteratura, con due bestelleristi di punta, come Gianpaolo Simi e soprattutto Antonio Manzini, con la sua ultima opera attualmente in classifica, l'ultima inchiesta del vicequestore più burbero della letteratura italiana, interpretato per la TV da Marco Giallini. Ospiti di rilievo in questa carrellata, che si propone anche di presentare sul territorio una reading spettacolo dedicata a Pasolini, a cura di Pierpaolo Capovilla, che molti conosceranno qua, è cantante del Teatro degli Orrori, quindi di tutto il panorama indie italiano. Gli eventi si svolgeranno negli spazi Medicei, interessando anche il giardino di Palazzo Mediceo, che fornisce ampi spazi per il pubblico. È prevista anche la diretta streaming degli eventi. Grazie. Grazie.